Il grande fratello Aida Nizza Rebaia Dam e litigano al grande fratello, sfiorata la rissa Grande fratello, la lite tra Aida Nizza Rebaia Dam e degenera, i concorrenti arrivano quasi alle mani. Momenti di alta tensione nella casa del grande fratello 15, Aida Nizza Rebaia Dam e hanno pesantemente litigato e lo scontro tra i due è stato talmente acceso da sfiorare la rissa. Faccia a faccia, infatti, i due concorrenti del GF sono passati dalle parole ai fatti così, per evitare che la situazione degenerasse, sono dovuti intervenire gli altri inquilini a dividerli. Il motivo? Un dessert. Aida infatti avrebbe preso prepotentemente la sua porzione di dolce senza aspettare gli altri e questo, di fatto, ha mandato su tutte le furie Baie. Quest'ultimo, infatti, l'ha subito seguita in camera dal letto e, con la forza, avrebbe sottratto il tiramisù rubato dalla Nizza Rebaia. Aida Nizza Rebaia Dam e litigano al GF, lo scontro tra i due e l'intervento degli altri coinquilini. Sei una gran cafona e maleducata! Ha urlato più volte Baie ad Am e ad Aida. L'atteggiamento di quest'ultima, poi, ha così infastidito Baie da farlo andare in bestia in cucina. Il ragazzo, infatti, si è piazzato più volte prepotentemente di fronte alla spagnola, urlando contro di lei senza inibizioni. A questo punto i ragazzi e le ragazze della casa si sono piazzati in mezzo ai litiganti e alcuni hanno pure tirato via il loro mano, proprio per evitare che lui o Aida arrivassero ad alzare le mani. L'intervento degli inquilini del grande fratello, tuttavia, ha poco eservito, tant'è che Baie Adame ha continuato a inveire contro la Nizza Re senza sosta. A Aida Nizza Re e Baie Adame litigano, lei lo accusa di essere troppo aggressivo ma i concorrenti stanno dalla parte del ragazzo. Impassibile e senza paura Aida ha affrontato Baie Adame senza colpo ferire. La spagnola, inoltre, ha anche accusato il ragazzo di essere stato violento e troppo aggressivo con lei. Gli altri inquilini però hanno subito preso le difese di Baie Adame. Non fare il suo gioco hanno infatti più volte ripetuto a loro compagno. Grazie a tutti!